Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dal tema come vestire vintage stagione per stagione e finalmente parliamo di estate l'estate è probabilmente la mia stagione preferita per vestire in questo stile perché adoro tantissimo sia tutte le stampe tropicali derivante dallo stile tiche degli anni 50 sia i vestiti che lasciano scoperto il diaframma che sono in realtà più tipici degli anni 40 quindi cominciamo questo video e parliamo prima di tutto degli abiti prendisole ovvero vestiti leggeri che lasciano scoperte le braccia, le spalle un po' scollati spesso anche con la schiena scoperta e che appunto si chiamano così perché più pelle possibile prende il sole il primo che vi faccio vedere è il mio vestito Marilyn non ho idea di come si chiami veramente questo modello ma io lo chiamo Marilyn perché è semplicemente il modello che l'attrice indossa in una delle sue foto più iconiche quella in cui il ventole alza la gonna da sotto è semplicissimo in realtà, una gonna larga, una fascia che va dalla vita al sottoseno da cui partono due fasce di stoffa è super semplice, super fresco si usa senza reggiseno e è anche comodissimo io infatti l'ho scelto per andare a passeggiare sul Grand Canyon altri modelli di prendisole sono quelli che si annodano non so come spiegarmi meglio quindi ve li faccio vedere questo ad esempio si annoda sul davanti coprendo il seno ma lasciando scoperto appunto il diaframma oppure questo ha la parte anteriore intera e steccata quindi anche qui non serve il reggiseno e poi si allaccia dietro lasciando praticamente tutta la schiena scoperta solo con un fiocco anche questo con la gonna molto larga in modo che le gambe rimangano fresche un modello invece che è considerato un must ma che purtroppo mi manca ancora è il sarong dress ovvero sono dei vestiti che hanno un corpetto normalissimo come potrebbe essere questo ma la cui parte inferiore sembra un pareo erano popolarissime negli anni 50 non ne ho ancora uno perché in realtà ho comprato una stoffa a Tahiti e volevo farne uno con quella stoffa ma credo che cederò e ne comprerò uno perché ormai sono passati anni e la stoffa è ancora piegata nel suo scatolone oltre ai penne di sole un must sono ovviamente i pantaloncini jeans a vita alta come questi che si possono abbinare con crop top a me piacciono quelli a bustino magari con già delle stecche o delle imbottiture sul seno in modo da non usare il reggiseno non lo so se si è capito non mi piace usare il reggiseno d'estate fa sudare troppo oppure possono essere abbinati con delle camicie hawaiiane camicie hawaiiane a me piacciono quelle larghe da uomo sostanzialmente infatti questa è del mio ragazzo, lui non la usa più e la uso io la metto, hanno data sul davanti e anche questo è un richiamo allo stile tiki degli anni 50 se non ci si sente proprio a proprio agio con i pantaloncini corti ci sono i pantaloncini a pinocchietto o come si chiamavano negli anni 50 capri pants i miei in realtà sono una salopette, ho solo questo paio di una salopette mi piace indossarli con il toppino bianco, la bandana per un look un po' alla rosy derivative poi ovviamente oltre ai pantaloni ci sono anche le gonne questa l'ho fatta io è una gonna bottonata ovvero ha una fila di bottoni sul davanti e si può indossare sia chiusa intera che aperta c'è anche un tutorial sul canale e anche su IGTV e so benissimo che in tutti gli altri video vi ho detto che sottogonne di questo genere servono sottogonne in tulle ma in estate è una cosa che sconsiglio perché tengono piuttosto caldo e fanno sudare quindi è meglio evitare di metterle comunque queste gonne oltre ad essere abbinate ai toppini quindi io ho le camicie hawaiane possono anche essere abbinate alle play sui tutine, tutine come questa è un abbinamento anche questo che viene dagli anni 40, 50, anche 60 si mettevano queste tutine che in teoria venivano usate per lo sport ma diciamocelo, non è che tutte le usassero per lo sport semplicemente sono carine e quindi la gente le usava e metteva sopra una gonna bottonata spesso dello stesso colore della tutina in modo che sembrasse un vestito io ovviamente questa l'ho comprata purtroppo non c'era la gonna abbinata e quindi me ne sono fatta una rossa da mettere insieme così posso metterle sia in città e poi quando vado in spiaggia o a fare delle camminate posso togliere la gonna o sbottonarla e rimanere con la tutina questo è di un brand cinese che si chiama Le Palace Vintage e non lo sapevo ma è un'imitazione di una tutina degli anni 50 bellissima, quella però aveva la gonna abbinata perché me l'hanno fatta anche a questa? sarebbe stato fantastico e adesso qualcosa che quando ero più giovane detestavo tantissimo e adesso adoro i completini tipo questo gonna e toppino la gonna è di Bannet un brand che fa riproduzioni vintage il toppino invece l'ho fatto io con la stoffa che ho tolto da sotto la gonna perché era troppo lunga e pensavo anche di fare un tutorial se vi interessa in realtà questa gonna veniva abbinata ad un costume da bagno e mi piaceva tantissimo l'idea ad esempio c'è nel film Blue Hawaii quando Meryl si slaccia la gonna e corre in mare e si scopre che quello che aveva addosso non era un vestito ma appunto un costume e una gonna ma qui non funziona perché il colore è diverso la stoffa è diversa e il colore è diverso quindi ho fatto l'altro toppino per consolarmi e parlando di costumi i costumi in stile vintage sono più quelli interi oppure a vita alta negli anni 50 già c'erano i primi bikini ma la maggior parte delle donne preferivano comunque questi modelli un po' più casti diciamo comunque ai costumi pensavo di dedicare un video adesso invece parliamo di accessori partendo dalle scarpe dipendentemente da dove devo andare di solito scelgo scarpe basse in tela come quelle che vi ho mostrato nel video primaverile oppure sandali i miei preferiti sono quelli col tacco in paglia tipo i spadrillas che andavano tantissimo negli anni 40 e parlando di paglia parliamo anche di cappelli cappelli in paglia come questi questi qua sono un po' piegati da questa parte perché li ho bagnati e li ho tenuti con un peso in questo modo in modo che quando io li metto non mi vadano davanti agli occhi e anche con i cappelli in paglia si possono usare fiori per i capelli basta semplicemente pettinare tutti i capelli da un lato e mettere appunto i fiori da quel lato e dopo i cappelli in paglia le borse in paglia voilà questa è della Daisy Wall ovviamente ne ho un sacco più grandi, più piccole questa qui mi piace perché sembra fatta su misura per il prossimo accessorio il mio ombrellino parasole la gente pensa che sia molto strano che io vada in giro con l'ombrellino parasole nonostante trova che i turisti cinesi possano farlo in estrema tranquillità non si fa ragazzi non si fa tutti dovrebbero poter mettere gli stessi indumenti e fare le stesse cose e a me l'ombrellino piace un sacco perché è l'unico modo per non scottarsi le spalle quando si gira in città d'estate la crema non basta e infine parliamo di gioielli in estate uso quasi esclusivamente orecchini e bracciali larghi questo perché entrambi evitano di lasciare segni dell'abbronzatura mentre con lane e bracciali stretti oltre a far sudare di più ma quella potrebbe essere semplicemente una mia impressione lasciano spesso il segno dell'abbronzatura che poi è una cosa che non va mai via è incredibile quanto è difficile far andare via il segno dell'abbronzatura comunque questi erano i miei consigli per i vestiti vintage estivi spero vi siano piaciuti e ci vediamo con un altro video del genere in autunno ciao 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 ciao